Domenica 3 aprile, una giornata formidabile per la reggia di Caserta, 20.000 presenze qui nel monumento. Una giornata davvero memorabile, storica. Io lavoro alla reggia da oltre un trentennio e devo dire che è la prima volta in assoluto che ho visto tanta gente arrivare a Palazzo Reale, ma un pubblico di diverso tipo, turisti provenienti dall'estero, gruppi. È stata veramente un'emozione vedere nella piazza antistante del Palazzo Reale 100 metri di coda alle 3 di pomeriggio, una cosa che normalmente si può vedere ai concerti piuttosto che alle partite di calcio davanti ai cancelli degli stadi, ma in un museo io personalmente non avevo mai visto tanta gente. Quindi questo vuol dire che c'è una grande attenzione, un grande interesse nei confronti del nostro monumento e di questo dobbiamo dare atto al nostro direttore Mauro Felicori che ha saputo creare un clima di ottimismo, di fiducia attorno al Palazzo Reale. La gente ha coinvolto la città, l'istituzione e il territorio e la gente si sente legata al monumento, vuole partecipare alla vita dello stesso. Noi siamo contenti di questo, ringraziamo e aspettiamo sempre maggiore interesse e coinvolgimento da parte della gente.